Lo United Nations Headquarters, sede delle Nazioni Unite, si trova al termine della 42esima strada, sull'East River. L'imponente complesso di edifici in vetro e acciaio risale agli anni 50 ed è opera di due tra i maggiori architetti dell'epoca, le Corbusier e Niemeyer. Alle pareti della Hall e della Sala dell'Assemblea Generale si trovano quadri provenienti da tutto il mondo.